Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come abbiamo fatto le dettagli delle viti e va bene come dico io se vi piace la materia il canale tutto il tema trattato iscrivetevi al canale lasciate un like ciao a tutti e buona visione buona visione a 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